Ciao a tutti, cose di oggi! Aspetta, un po' di caffè Magico sto caffè Autofatto in casa Usando Il bicchiere di Starbucks Perché così potete andare in giro e fare Le persone trendy Con Starbucks Però in realtà usando il caffè di casa Molto più economico Infatti Starbucks l'altro giorno come ho già detto Mille volte Sono andato ma ho un caffè 5 dollari quasi E la madonna Ho preso un Vabbè l'ultima volta ho preso anche il bicchiere Ho speso tipo 20 dollari Da Starbucks Come se uno va da Bargino E spende 20 euro Tra un caffè e un bicchiere Oppure va al Bar Merda Che è un bar molto bello Che c'è a Milano Che io vado sempre Dove c'è Peppe Cotraro DJ Albertino Marco Ranzani di Cantù DJ Manolo E spende 20 dollari 20 euro No ma l'altra volta ci sono andato Ho preso sto cavolo di Ice Coffee Mocha Chocolate Così 4 dollari Perché secondo me Generalmente Quel film lì è una cagata Ma guarda ma proprio eccezionale Però ha una sua logica E scommetto che su internet movie database Ci avranno messo Tipo il New York Times Avrà detto Irriverente Irriverente Ma fantastico 20 stelle Ah ecco Ci ha messo 3 stelle No effettivamente è un po' Una cagata Però c'è qualche lato Così simpatico La storia è praticamente Di sto qua Che è quello lì Che ha fatto Borat Borat Che però in questo film Fa il gay Ma gay Ma di brutto 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 Ne Poi va in giro Prima va a Milano Ha delle sfilate di moda Perché lui è nel Nel giro della moda Però Non lo rifiutano Perché lui deve diventare Famosissimo No In tutto il mondo Allora va prima a Milano Fa un po' Così Poi va a Los Angeles Prova un sacco di TV show Delle cose Però Il modo in cui È girato Praticamente È una specie Di candy camera Tutto candy camera Tutte riprese Vere Però secondo me Secondo me L'80% Delle cose Sono cose preparate E dopo Quando entrerò Nei dettagli Vi spiegherò A parte del fatto Che lui ovviamente È stato Ultra Comandato Quindi Poteva sedersi In prima fila Alle sfilate di moda A parlare Con Alla fine Poi fa Dei video Con Bono Con Sting Quindi Poi anche Tipo Quando ritorna in America Prova a fare Il lavoro Di giornalista Allora Uno normale Si Va lì Fa la domanda Su carta Magari No Lui va direttamente A parlare Con Il capo Proprio quello che va In tv Li fa Parlare con quello Che fa Le previsioni del tempo Vabbè lì Dai finto Lì Ci sarà stata Una mega Raccomandazione Comunque Sì Alcune cose Simpatiche Alcune cose Anzi A Danzeni Lo voglio consigliare Perché fa vedere Alcuni aspetti Dell'America Molto strani Ad esempio Va a casa Del capo Della supremazia Bianca Allora Questo parla tutto Di cristianità E invece lui Dopo un po' Fa finta Che è gay Oppure Intervista Ron Paul Che è un Politico americano Repubblicano E Va nella stanza A letto Si toglie I pantaloni Sì Cioè Secondo me Lì è Molto Candy Camera Non penso che Ron Paul Che è un politico È come Se avesse Che so Tentato la stessa cosa Con Obama Non è che si poteva Organizzare Non l'avrebbe mai Accettato Secondo me Poi Bellissimo Così Poi va da uno In America Ci sono Non sapevo Però ci sono Sti cavoli Di preti Pastori Che hanno proprio La funzione Di convertire Gay Perché Poi vanno Ste manifestazioni Anti gay Tutto Questo qui Andava lì In mutande Oppure Un'altra volta Si era manettato Con un altro uomo Dentro il letto Poi chiama Chiama la sicurezza Dell'albergo Dice Potete togliere Il manetto E ci siamo incastrati Poi adesso Ci arriva Il telecomando Nel culo Dice Almeno Potete spegnere La tv Che quando Scorreggio Si cambia il canale Cioè Stronsego di Allora Quelli dell'albergo Si sono arrabbiati Cosa fai qui Poi dopo Li hanno arrestati Poi Così 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 Però La cosa bella Però sono I vestiti Ad esempio Hanno fatto Un pezzo Un po' di scemene Sono andati in Israele E era vestito Con quella Una specie di tenuta Inverno Estate Dei rabbini No? Con il cappello Però pantaloni corti Quindi tutto aperto Allora A un certo punto Sono un sacco di rabbini Che hanno detto E dove l'hanno inseguito? Adesso mi ho detto Eh finto Finto E però Potrebbe anche essere vero Perché in quei paesi lì Sono un po' Messi male Con la loro cultura Religione Poi Bellissimo Faceva dei meeting Tra di qua palestinesi E di là arabi Dose le stronzate Di interviste Vabbè Vabbè Li diamo a sto film Su 5 stelline Non lo so 3 Giusto Perché Ha fatto vedere Qualcosa americano Tipo Il convertitore di gay Oppure La casa del Del capo Della supremazia Abbiamo Ah bellissimo La scena Quando va A un aspetto Specie Specie Di Jerry Springer Show Conosciamo tutti Un programma dove Vanno Persone Comuni Dove Spongono i loro problemi E alla fine Scoppia sempre la rissa No? Ovviamente Preparatissimo Allora Allora Lui era gay Diceva Adesso Il presentatore Ovviamente era D'accordo Però secondo me Il pubblico No E il pubblico Poi tra l'altro Era tutti neri Non l'ho mai visto Il presentatore Bianco Non vuoi essere tutti neri Allora dice Ecco Facevo entrare Questo Parente Singolo Singolo Come si traduce in inglese Parente singolo No volevo dire Genitore Come si dice Ragazzo papà Ragazza madre Vabbè Un papà Single Con un figlio Ok Ecco Allora Pubblico Applaudiva Bravo Bravo Pensano alla Suita storia Allora entra lui Che faceva il game Ma è di brutto Poi Inizia a parlare Già inizia a parlare Dell'Africa Ma Ci sono stato in Africa Ci sono un sacco di afroamericani Allora subito Una Dal pubblico Noi non si chiama For me che sono africani Tutta Abbastanza Saputella Perché intanto Lui era bianco Quindi subito Appena lo vedi Parla dell'Africa Cioè se te sei bianco Non puoi neanche parlare dell'Africa Perché già ti guardano male Sono razzisti I neri Sono razzisti Ecco L'ho sempre detto Poi Dopo dice Dopo fa entrare il bambino Che è nero È piccolino Nero E dice Ma come ha fatto Ma L'ho scambiato con un iPod Allora tutti Cosa Che in Africa Gli ha dato un iPod Sì però era la versione red Quella degli due Allora Bellissimo Poi dopo succede un casino Molti del pubblico Vanno via Poi arriva L'assistente sociale Secondo me Finta Che dice Oh allora Questo bambino requisito Tutti applaudono Poi è bellissimo Anche all'aeroporto Hanno fatto una specie Anche lì Candy camera Secondo me Abbastanza preparata Ma il pubblico Non preparato Arrivano i bagagli Allora innanzitutto Lui arrivava dall'Africa Quindi aveva due zanne Di elefante Che le zanne Sono illegali No? Si possono comprare Poi dei piedi di elefante Che si deveva benissimo Anche quello Secondo me Illegalissimo Poi arriva uno scatolone Con scritto Don't open Fragile Poi lo scatolone E c'è fuori il bambino E tu ti dico Oh Ho messo il bambino Baraglio E' simpatico Gli diamo tre stelline A Bruno Anche io Gli devo tre stelline Qualche scena è divertente Magico sto film Ah sto caffè Bye No la cosa bella La colonna sonora Che quando facevo Avevo fatto uno spot Poi l'aveva fatto Cioè C'è arrivato Uno dal nulla C'aveva il produttore Della CBS A guardarlo Lì ovvio no? Saranno organizzati Ma non glielo hanno detto Che era una cosa Finta Candica Però Tutto raccomandato Ovviamente No Eh Sennò come cavolo fai Poi La cosa è In quel tipo Video così C'è la musica Gabber Di brutto Però io non vorrei Che si facesse Questa associazione Tra musica Gabber E gay Quindi Io questo Lo manderò Una letter Che la musica Gabber E per Gente normale Oh l'ora Dove sono Google Gu YouTube YouTube Beh Poi Ieri ho finito La mia prima Web Applicazione Che è detta così Web Applicazione Un'applicazione Applicazione Dell'iPhone Ma in realtà È un sito web Un sito web Però Ottimizzato Per iPhone Che si può anche dire Web Applicazione Sempliciotta Però Ho imparato Alcuni Tag Importanti Se volete Creare un sito web Solo per iPhone Quindi magari Possimamente Farò un video Facendo vedere Questi tag Ad esempio Vabbè Ci sono i soliti Tipo Lo zoom Poi Disabilita lo zoom Poi Fai in modo Che quando apri Sto sito web La toolbar Vada via Così così Però il resto È facile Basta che lo fate Piccolo Situare piccolo Poi la cosa Più bella Al mondo Che Proprio Proprio Quando fai Sacropo Ti senti bene Meglio della droga Te fai il tuo sito web Lo guardi sull'iPhone Funziona A posto Non devi riguardare L'Internet Explorer 3 4 5 6 7 8 9 10 Firefox Safari 5 6 8 Blablabla No Va sull'iPhone Finito Il mio lavoro È finito È bellissimo Poi ovviamente C'è un trucco Anche da mettere Nel sito originario Se Scappa fuori Il Un iPhone Che accede a sto sito Automaticamente Rindirizzalo Su un altro sito Quella La versione Dell'iPhone Questa cosa Non l'ho fatta Non lo so perché Adesso Ci penserò Non l'ho fatta Però la potrei fare Benissimo Poi tra l'altro Si potrebbe fare Il sito web vostro Normale Ok Poi attraverso Un CSS Per dispositivi mobili Fai un altro CSS Però praticamente È il sito principale Che chiama un altro CSS Però in questo caso Io ho fatto Un mini sito Completamente separato Però piglia Tutte le informazioni Dalla data base Perché è un content management No? Però ho fatto così Perché volevo fare Tipo Nel sito normale Se devi schiacciare Una cosa medica Se devi schiacciare Un dottore O dove vive O una Area Una zona Ci sono i pulsanti Invece nell'iPhone Volevo fare Quei menu a tendina Quelli che si usano Nei form Per poi con l'iPhone Quando schiacci Viene la rotellona grossa E allora lì Ho dovuto cambiare L'HTML Però devo dire Anche qua Expression Engine Mi ha sempre sorpreso Nella facilità Perché Questa cosa Nella lista Delle aree Dei dottori Nel sito normale Veniva Come una lista Un bulletin list No? Quelli UL E lei No? Però Siccome volevo fare Questi Questi Menu a tendina Non mi servivano lì Allora bastava mettere Un tag Togliere un tag Invece di metterlo Normale Metterlo linear E adesso vi asdo la lista Poi Spatacando Dentro Il codice Ma una stronzata No? Quindi praticamente Se vuoi ti renderizza Una cosa Una serie di categorie In un modo Se la vuoi fare in un altro Te la fai in un altro Se vuoi combinarla Con dentro Come si chiama Questi field Così Ce la fai bisogno Secondo me invece In WordPress Non si sarebbe potuto fare niente Perché E tutto Viene tutto in automatico No? Quindi non so Come Non si sarebbe potuto fare A meno che Andare a cercare subito Un plug-in È tutto un plug-in È un mondo È un magna Magna generale Con questi plug-in Almeno sono gratis La maggior parte Invece per expression engine Un dato così Che Voglio dire Conto O è Ormai tutti Se fanno un plug-in Non mettono a pagamento Che due palle Poi il bello Che in manco C'è Chissà Un demo Adesso Ultimamente C'è un problemone Che vogliono Fare Ampliare La sezione shopping cart Così Le persone Possono loggarsi Vedere Cos'hanno comprare Allora Allora Ci sono 3 o 4 plug-in Che fanno sta cosa Ma non essendoci deboli Non ci sono screenshot di merda Costano tutti Super 100 dollari Non so quale prendere Su le palle E anche Jomla E lì Lì Perché io mi ricordo Quando avevo guardato Jomla Ci sono sarebbero In tutto il commercio È tutto Basato sul commerciale Ormai Ormai Virtual market È gratis Però Non ci ho spattaccato Tanto Adesso Ci cuore Nel volo Ci cuore Nel volo Comunque Non so se siete Confidenti Con expression engine Lo conoscete Per un altro punto a sfavore Voglio dire A me la versione 2.0 Lo scaricate così Ma non l'ho mai usata Anzi Per nuovi clienti Uso sempre la 1.68 A parte Il primo impatto grafico La 2.0 Non mi piace Quel viola Ha messo I bottoni tutti viola Da grey Ma io li volevo verdi Non si può cambiare verdi Già lì Poi ci sono alcune cose Hanno scasinato tutto in giro Adesso Non lo so Non mi piace Non mi piano Non mi trovo Ci proverò Quando sarà uscita La versione poi finale Adesso sono ancora In public beta Non mi trovo Non mi ci ritrovo Allora Risposte elettori Velocissime Ne ho solo 27 Frank JP Morgan Che nome Una richiesta veloce Leggo che sono amante Del film Wall Street Quindi saprai Che devi uscire Il seguito Money in Eversleep Ne vuoi parlare? Ho sentito Parlare Di questo film Che devo uscire Però non l'ho visto Poi Poi Quando arriva il DVD Lo guardo Non certo Andrò al cinema Posso aspettare Mi piacerebbe commentare Eh Non ho visto il film Comunque secondo me Non Eguaglierà mai L'imparreggiabile Numero 1 Come sempre Come quasi sempre Tutti i film Che fanno un seguito Aspetta Devo chiamare Ferro Azzurro Ama Anacota Acciaio Posto Devo chiamare Wall Street Journal Per dire sta cosa Oggi Le azioni Schizzeranno Le stelle Sulla Anacota Acciaio Ma Ci guarderò Quando Quando avrò visto Il film Farò Una recensione E poi Quando Mostreranno Una recensione In tv Sul film Diranno Wall Street Journal Film bellissimo Mirko Jax Spettacolare Ma il primo Era il migliore 5 stelle Allora Galleria fotografica 1 1 1 1 1 1 1 Ti faccio i miei complimenti Per il tutorial Molto bello E ti scrivo Perché Se è possibile Creare un sito Bello e semplice Con la galleria Come Noacalina.com Ah si L'ho visto Allora Una galleria Sempliciotta Per fare Una galleria Sempliciotta Per fare E potete Scaricare Anche Il plugin Gratis Tra l'altro C'è anche un plugin In Lightroom Che me la fa in automatico Dovete andare Su Simpleviewer Punto Net Scaricare la versione Lì Molto bellina Molto sempliciotta Ma bella Simple Simple Viewer Punto Net Cerchate in google Googolate Video 86 Ciao potresti fare un video Cosa ne pensi Della nuova surf di google Chiamata caffeina Caffeine Non lo so Non so niente Come faccio fare Non so Non so niente Danseini Ma negli Stati Uniti La polizia E' come qui in Italia Che per strada Può fermare chiunque Per controllare I documenti Anche Chi magari Sta semplicemente Passeggiando Leccandosi un gelato Oppure Come ho letto A qualche parte Che possono fermare Controllare Solo quello che Sto compiendo Atti sospetti Ma io Queste notizie Cioè in Italia Addirittura La polizia Ha la facoltà Di fermare Gente comune Ma a me Mi sembra un po' Una stronzata Non hanno Non hanno il controllo Di niente La polizia in Italia Non possono Sparare Non possono Lanciare un tese Non possono Fare quasi niente Ci sono casi Casi Che so Lì allo stadio L'ho visto Però A me non mi sembra Che la polizia Può fermare chiunque In Italia Invece in America Sì In America Cioè se ti passeggi Per la strada E sei nero Ti fermano No Per un controllo Ti fermano Sempre A me non mi hanno mai fermato Però A meno da quello Che vedi in cops Se vedono Due neri Che vabbè Anche due bianchi Che però passeggiano In una zona Che di solito Non passeggia nessuno E allora lì c'è C'è qualcosa Che non va Allora Poi Se magari Adesso Forse magari Non possono fermare Senza mandato Come si vede In i film Però Possono fermare Per una scusa Ad esempio Vedono una macchina Un po' sospetta Vedono che so La luce della targa Che legge immigrati Che i poliziotti Hanno il diritto Di fermare Chiunque Che sembri Un immigrato Quindi un latino Non certo a me Che io sembro Un americano vero Poi magari Sto passeggiando Con uno starbucks In mano Adesso Adesso non lo fermiamo Questo americano Di brutto E comunque Possono fermare Qualsiasi Chiedere i documenti E far vedere Se sono in regola O no E allora Molti sono Sono Controversati Sta cosa Allora Forse mi sa Che non è passato Che c'è ferie Intanto in Arizona Come Che so Maroni Fastale Che c'è ferie Intanto È per il sud Roba per il sud Che c'è ferie In Arizona Ciao Mi chiamo Danilo Considerazioni Sull'iPhone Le ho già fatte Le mie condizioni Finali Sono L'iPad Non ce l'avevo E l'ho dovuto comprare L'iPhone 3GS Ce l'ho già Quindi l'iPhone 4 Non è che mi cambia tanto Quindi non lo compro Poi l'ho già detto C'è un contratto In T&T Dovei spendere di qua Spendere di là Troppe spese Ah Poi Bellissimo Non posso dire niente Altrimenti Bellissimo Allora Nuovi video Che devo fare Tutti col blue screen Green screen Allora Siccome domani Devo andare in campeggio Non ho tanto tempo Però magari Domenico Lo faccio Il primo Poi Bellissimo Allora Benchia Adesso il primo Devo capire Se posso fare Due Video Con entrambi Un green screen Che si interpongono Tra di loro Mi sa che no A meno che Uno lo faccio Con il green screen L'altro lo faccio Con un blue screen Però comunque Pensate Siccome il primo video Ho Una maschera Appastanza quadrata Quindi posso fare Anche con un quadrato Mascherato Non so come si fa Ma sicuramente Si può fare In Final Cut Ci proverò E questa è un'idea Molto bella Che sicuramente Piacerà Fa di James Cameron Ieri mattina Mi ha chiamato In Facebook Ho visto il tuo video Della macchina Ma come hai fatto Ma è bellissima Adesso mi ha chiamato Che adesso Deve uscire Avatar 2 Vuole Mia supervisione Ma adesso Sono un po' Sono impegnato Molte cose da fare Gli ho detto Ma non lo so Adesso tu guardare L'agenda Ti farò sapere Solito rompi palle Che non sa fare le cose Ma googola No Gli ho detto James Cameron Googola Mi avevo impegnato Con l'olio adesso Gli ho detto Porta l'aceto Battuto Allora Ieri sono andato A mangiare Al pizza place Lì vicino Ma hanno fatto Un Cassone Ma così è enorme Ma così è enorme Che ho dovuto Portare via Il cibo Col box Cosa che io Non faccio mai Perché mangio tutto Ma proprio non c'è Era così Era così Alto così Strafarcito Di salame Mozzarella Prosciutto Era un Enorme Non ho fatto la foto Sono morto Poi non uscivo più A lavorare Non malipane Ma era strapieno Che sono Era venuto Allora Prossima Il video Il video Montaggio Ho fatto il video Dietro le quinte Guarda quello Ok Di James Cameron Poi Sì Il contachilometri L'ho visto anch'io Non è che ci vuole Una lente di ingrandimento Per vedere che il contachilometri Era fermo Però ormai L'avevo fatto Ho provato a mascherarlo Un po' Però Non si riusciva Perché Non so C'è Dei C'ho Schi C'ho Schi Allora Uno dei segreti Siccome il tuo Chit 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 Ciao Custodia iPad Sì Per iPad La custodia Che ho io Per il mio iPhone L'ho comprata A Walmart Per 9 dollari Ah E profumava Di liquirizia No Volevo una Super economica Perché Non volevo Spendere 30 dollari Per quelle belle Ne volevo Una economica Perché Io sto Risparmiando Soldini Per Comprarmi Rock Band 3 Che c'è anche La tastiera Che bella Dan Seni Ci dice Ci fa vedere Un sito D'archivio Di Archive.org Del sito Di Mary Fisher Che era bruttissimo Ma se Archive.org È un sito Molto bello Andate tutti Mettete un sito Tipo Facebook O MySpace Non mi ricordo Qual'era Che ho guardato E vi fa vedere Com'era tipo Nel 1995 No E mi pare Mi pare Facebook O MySpace Era una compagnia Del cavolo Che vendeva Spazio Agli utenti E non avrebbe mai Immaginato Che sarebbe diventato Così famoso O magari era Un'altra compagnia Poi il dominio È stato Cancellato L'ha comprato Zuckerberg Mi ha detto Ah che gli aziono Il domenio In facebook Me l'ho venduto Per 100 dollari Quixo Video bello Dimostrativo Riguardo alla visione Infrarossi Che hai fatto vedere Con l'iPhone Puoi vedere Se riesci a vedere Dentro la vetrina Dei negozi Quelli oscurati Allora Io ho provato Sulle macchine Non funziona Però non ho ancora Ben capito Perché su quegli occhiali Di quella là Funzionava Aveva degli occhiali scuri Non so se funziona Con lenti polarizzate O veri Lenti veri Non lo so Perché Quelli là Aveva gli occhiali scuri Bianchi Complicemente Trasparenti Però ho provato Sulle macchine Non ha funzionato Magari le macchine I vetri oscurati Le macchine Non è che siano Proprio come Degli occhiali da sole Infatti ci sono Delle compagnie Che li oscurano Non è che Ti tolgono il vetro Probabilmente applicano Una pellicola Trasparente scura Sopra o sotto Dentro E viene oscurato Ma è proprio Un oscurato Scarso Non è proprio Il vetro Che è oscurato È un oscurato Per i barboni Insomma No Quindi forse Non funziona Per quello Forse perché I raggi del sole Non riescono A entrare Dentro la macchina E quindi Io non posso Vedere la luce Riflessa Quindi magari Il vetro È trasparente Però Siccome dentro È tutto buio Non vedo Niente lo stesso Quindi Se vedo Un negozio Lo provo Questo effetto Dan Seneci Manda il link De Apparenti Strani Cerchi nel grano Fatti Da leghisti Manda il video Probabilmente Un vicino Milano Nel nord Pare O vicino Verona Non mi ricordo Comunque Nel nord In un campo Ci sono degli strani Cerchi di grano Che poi stranamente Fa la Il fiore Il simbolo Della lega lombarda Allora Appare il fatto Che si vede subito Che sono finti Perché sono fatti male Che sono delle sbavature E poi C'è chi del grano Sono Secondo me Non sono fatti Dalli alieni Per niente Sono tutti finti Anche quelli Complessissimi Sono fintissimi No Secondo me quelli Quelli Secondo me Non lo so Va bene Allora Sicuramente Sono tre scuole di pensiero Mie e personali Uno Sono finti 90% Finti Fatti Da gente Col Col carro E con L'aratro Poi Seconda possibilità Che gli do Un 9% Sono fatti Perché Ci sono delle cose Che Gli scienziati Non sanno Io li so Ma Gli scienziati Sono stupidi Non lo sanno Prende delle microonde Arrivano Per fenomeni Naturali E creano Sta cosa Ma voi non avete mai visto Tipo in youtube Le onde Le onde sonore Modificano Fanno dei cerchi Cioè questo qui Ha messo Un subwoofer Sotto E sopra c'era Un piano Dove c'era Del liquido O della sabbia Comunque Mandando Della musica Ma non musica Erano dei suoni Tipo Allora la vibrazione Creavo proprio Dei cerchi Concentrici Ma poi Delle stranissime Forme Secondo me Può essere Un effetto Così Magneto Idrodinamico Non lo so Poi Un per cento Secondo me Sono gli alieni Però non è che Arrivano di notte Scendono dall'astronave Si iniziano a fare Dice Secondo me Loro Dal loro pianeta Hanno degli strumenti Sofisticatissimi Quindi riescono A inviare Tipo un raggio laser Ultrapotente A 18.000 Megasuoni Che riesce proprio A disegnare Fa dei disegni Però sono loro Dal loro pianeta Non è che sono gli UFO Che arrivano Proprio sulla città Che sto di Londra A cento chilometri D'altezza Iniziano a disegnare Secondo me Loro Oppure loro Dal loro pianeta Mandano Nel cielo A casaccio No Strane cose Come noi Con i Radiotelescopi O quelli del SETI Vabbè Loro captano Però avevano anche Mandato un messaggio Per gli extraterrestri Se trovate questo messaggio Contattateci Questa è la mia E-mail Telefono Blah blah Così magari Anche loro Nel loro piccolo Intelligenza inferiore Stanno mandando Dei cerchi Dei cerchi Fatti con dei Reggi laser Microondati Che però Non sanno dove Cavolo vanno E allora magari A volte Li riceviamo A volte no Questo è l'1% Però Poi Danseni Confermato Sono Che Palp P 75 75 Sotto Simpa Sotto Bravo Blah 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 Dark Math Master Come si chiama L'applicazione Che hai utilizzato Alla fine di questo video Quella Con cui suoni Quale 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 Con cui suoni Vabbè Che ne so Call Non lo so La fine dell'applicazione Non la vedo Comunque Non lo so Risponderò Sì ma che caldo Eh mi son vestito bene Perché alle nove e mezza C'ho un Intervista in diretta Da New York Ci sta Il nostro Corrispondente Un corrispondente Un corrispondente Che mi vuole Intervistare Allora guarda Mi son vestito Col vestito Della domenica Mi son anche Pettinato Stimattina Guarda Le altre risposte Sono Le ho già lette La scorsa volta Leggero Poi Poi Sì ma adesso Squiggy Mi deve intervistare Cosa mi chiederà Notizie Piccanti Retroscena Eh guarda Questo qui Mi interviste È un giornalista Vero È un giornalistone È un giornalista Di stirpe Che film è Che film è È un professorone Non posso dire È tutto segreto Segreto Istruttorio Che paleo Non so cosa dire Sono 35 minuti Fammi Fare almeno 45 minuti Donkin Donuts Donkin Donuts Ha delle frattone Migliori Che Da Starbucks Donkin Donuts Al pomeriggio C'è tipo Caffè Ghiaccio Un dollaro Poi c'è Arrivo a Starbucks Devi Devi uscire La carta di credito Come si dice Nella Nella Si dice Non so Devi per niente Uscire Ciu Es Ciuschi Adesso ti esco No Vuole uscire Perché Devo andare nel prato Ti esco Ciuschi Dopo Anzi Non ti esco Per niente Perché ciuscate Faccio al vizio Che te lo metti fuori Un secondo dopo E già nel vicino E quindi Non esci più Basta Basta Segregato Resti domiciliare Vediamo se c'è altre risposte Dele Lec-todi I-pati Allora, per me metti tutto, ciao tutti!